L'esperienza non si può acquistare ma comunque la si paga. Nel settore enologico anche l'esperienza può non essere sufficiente ad evitare gli errori. Forse è per questo che non capita di rado che la produzione dei vini sia un mestiere che si tramanda di padre in figlio. Due esempi vicini e di grande successo li troviamo nella famiglia Decorato, patron della Cantina Rivera. La prima bottiglia di Falcone risale agli anni 50 e portava la firma di Sebastiano Decorato Suo figlio Carlo rappresenta oggi l'esperienza e quello che una volta era il piccolo nipotino Sebastiano è il presente e il futuro della Rivera. Sono padre e figlia Michele e Violante Placido. L'attore pugliese si è cimentato quest'anno nella produzione di vini e si è presentato al Vinitaly. È riuscito a coinvolgere sua figlia, la bella e brava attrice Violante, in questa avventura. Una passione comunque che ci accomuna. Anche la voglia comunque di tenere un legame con le mie origini e veramente la voglia di mettere un faro su questa parte della Puglia che è più sconosciuta e insomma aiutarla ad una riscoperta. Anche la cantina Paolo Leo rappresenta una tradizione familiare di produzioni ennoiche. Il patron Paolo lavora costantemente a fianco del figlio Nicola ed è convinto che anche il nipotino Paolo, respirando sin da piccolo l'aria della cantina, non potrà che amare questo mondo. La nostra è un'azienda basata sulla famiglia in particolare, ma questo perché ho ereditato da mio nonno e da mio padre questa educazione, questa forma di rispetto e di crescita di un'azienda a livello familiare. Io sono l'ultimo della generazione, poi c'è già la nuova generazione che è nato un altro Paolo Leo a mio figlio Nicola e quindi stiamo già educando il nostro piccolo Paolo a essere già presente in mezzo a noi, in mezzo alla famiglia. E questo è importante perché secondo il mio punto di vista la cosa più importante per un'azienda è essere uniti, essere una grande famiglia. Certo lavorare insieme in famiglia è anche molto rischioso. Lavorare con papà in un campo diverso da quello artistico? Sicuramente molto più facile. Basta trovare i giusti equilibri. Si lavora bene perché tanto ci occupiamo tutti di rami diversi. D'altronde chi possiede vigneti sa bene che per quanto li possa amare non li potrà mai possedere completamente, li potrà però custodire per tramandarli.